Grazie a tutti. Scrive una cosa toccante, bellissima, l'uomo mortale non ha che questo di immortale, il ricordo che porta e il ricordo che lascia, quindi la memoria comunque rimane. Bene, torniamo a cose un po' più frivole. Dicevamo, twitteratura, questo termine strano, nuovo, che è un'unione di, ovviamente lo vedete, twitter più letteratura e si crea questa nuova parola che abbiamo inventato. Una twitteratura ci vuole, anche qui parafrasiamo una delle più famose citazioni legate a Cesare Pavese, che è quello un paese ci vuole, non fosse altro che per il gusto di andarcene via, un paese vuol dire non essere soli, bla bla bla, so tutto Pavese a memoria. E quindi adesso poi alla fine del mio intervento vi leggo, vi cito la luna e i falò dall'inizio alla fine, tanto abbiamo ancora quattro ore e non c'è nessun problema, io perdo l'aereo ma lo faccio volentieri, perché insomma lo perdi anche tu, è vero? Beh però lo fai per la letteratura, so. Dunque c'è un antefatto di cui dobbiamo parlare, che è questo qua, l'antefatto è la fondazione Cesare Pavese, esiste questo ente che è un ente che immagino voi tutti conosciate, se non lo conoscete da stasera lo conoscerete, se non ve ne ricorderete io ve lo chiederò, nel senso che so, ho tutte le vostre mail, perché me le faccio dare, quindi solitamente dopo queste situazioni arrivo a casa e stalkero tutti quanti chiedendo, ma vi ricordate cosa ho detto al minuto 15 del mio intervento, se non succede vado direttamente a casa della persona, lo faccio, è un'attività interessante, mi piace, evviva. La fondazione Cesare Pavese è un ente istituzionale, una partecipata a Regione Piemonte, provincia di Cuneo, comune di Santo Stano Belbo e famiglia Pavese, abbiamo all'interno del nostro consiglio di amministrazione anche i pronipoti dello scrittore, quindi insomma è nazionalmente riconosciuta come l'ente deputato alla divulgazione culturale legata a questo scrittore, ma in genere, cultura in genere. Antefatto numero uno, esiste la fondazione Cesare Pavese, antefatto numero due, esiste un termine che si chiama disintermediazione. La fondazione Cesare Pavese è un ente che fa cultura come solitamente gli enti la fanno, organizza eventi, manifestazioni, mostre, convegni, dibattiti, questo è il modo consono con cui si è sempre fatto cultura, come noi gutembergiani l'abbiamo sempre fatto, non penso che tra di noi ci sia qualcuno che è nato dopo il 96-97, quelli sono i nativi digitali, io sono lì, sono del 95, quindi sono proprio a cavallo. Dunque noi siamo stati abituati a fruire la cultura come fruiamo un libro, cioè ad avere in mano qualcosa, sfogliarlo, sentire la carta, odorare il profumo della stampa, che è una cosa comunque meravigliosa, che non morirà mai, senza dubbio. Oggi però, per poter fare cultura e divulgazione culturale, e in questi giorni, in questa giornata, ne stiamo parlando, occorre tenere a bene a mente questa parola, significa che un ente come la fondazione Pavese deve cercare di, tra virgolette, sciacquarsi i panni in arno e guardare a quelle che sono le nuove opportunità. Una di queste nuove opportunità è appunto quella che noi abbiamo chiamato la twitteratura. La twitteratura cos'è? La twitteratura in realtà non esiste, perché è una parola che noi abbiamo inventato. Però esiste una cosa molto interessante, esiste il rapporto che c'è tra il libro e il lettore. Questa è una cosa che ci è sempre stata, è sempre esistita e sempre esisterà. Libro in ogni suo formato, cartaceo, digitale, e-pub, tutto quello che vogliamo. Esiste questo rapporto, che è una storia d'amore, perché poi alla fine noi tutti abbiamo sempre avuto una grande passione nei confronti della lettura. Oggi però, questa storia d'amore ha bisogno di una nuova opportunità. si sente sempre parlare più spesso, si legge di meno, si legge di più, crisi dell'editoria, cosa si deve fare. Bisogna cercare di dare nuove opportunità alla lettura. E una nuova opportunità alla lettura oggi potrebbe essere questo strumento qua, che tutti noi abbiamo in mano, che è un disintermediatore, che fa diventare la fondazione Cesare Pavese un'altra cosa, e fa e crea sostanzialmente quella che noi chiamiamo twitteratura. Come è nata quest'idea? L'idea era quella di coinvolgere il pubblico di Twitter in maniera più attiva nei confronti dell'account della fondazione Cesare Pavese, che è appunto Pavese Cesare. Il coinvolgimento più attivo cosa significava? Io prima twittavo semplicemente Pavese, quindi predevo i pezzi dei suoi brani, li copiavo, li incollavo, e questo comunque funzionava, il fruitore del social network, le persone che sono sui social network apprezzavano, però avevo bisogno, volevo, mi interessava, un coinvolgimento un po' più diretto, cioè fare in modo che la letteratura fosse davvero presa in mano e ristudiata. Allora cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato, assieme alla San Bogdan Pautas, Torino Ani Dieci, che è uno dei miei due compagni di viaggio, l'altro è Paolo Costa, che è subentrato successivamente con i successivi, che poi vedremo, percorsi di riscrittura. Abbiamo pensato di prendere la luna e i falò, e cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto a quelli che ci seguivano, quelli che erano i nostri follower, come si dice, riscriviamo insieme la luna e i falò, ma non prendiamo Pavese, lo copiamo, lo incolliamo e lo mettiamo lì. Ognuno di noi riscrive quello che pensa, quello che Pavese gli dà con un calendario, quindi un capitolo ogni due giorni, si prendeva questo capitolo, si leggeva in comunità, immaginatevi fossimo tutti noi, io adesso vi dico domani andate a casa e leggete il primo capitolo della luna e i falò, e poi lo riassumete in 140 caratteri e lo postate su Twitter. Questo crea un grossissimo legame, innanzitutto tra di voi, perché cominciate ad andare a vedere i tweet degli altri, cercate di capire uno cosa ha scritto, magari voi non avete capito molto bene i temi che Pavese spiega, che Pavese racconta all'interno di quel capitolo lì, allora vi rifate magari al vostro amico, al vostro follower, vado a vedere cosa ha scritto lui, così magari prendo spunto e mi faccio un'idea e faccio il mio tweet. Questo ha fatto sì che la luna e i falò venisse letta. Noi abbiamo pensato, pensavamo che fosse un esercizio di riscrittura, quindi si potesse fare una letteratura, una Twitteratura, che però non esiste. In realtà era un esercizio di lettura, perché se io devo riassumere un contenuto in 140 caratteri e farlo in maniera intelligente, perché altrimenti non vengo rituitato, altrimenti non vengo visto, altrimenti non vengo letto, il contenuto di partenza lo devo conoscere bene, lo devo possedere, e questo significa che lo devo leggere. In due giorni un capitolo, voi so che sapete assolutamente come è strutturata la luna e i falò, ma ve lo ripeto, i capitoli sono molto brevi, una pagina e mezza, quindi anche questo ci ha fatto gioco, nel senso che una pagina e mezza è molto breve, si legge molto facilmente in una giornata, tutti noi troviamo il tempo di leggere quella pagina e mezza, ma lo facciamo in comunità, lo facciamo assieme a tutti. Questo primo percorso ha prodotto questi dati, che sono stati i numeri, appunto i primi numeri con cui ci siamo confrontati, vedete 54 partecipanti attivi, significa che ogni giorno, per 64 giorni queste persone quotidianamente postavano il loro tweet, ne postavano talmente tanti, che ne sono arrivati alla fine, come vedete 5.245, che questo voleva dire 81 tweet al giorno. Per noi all'epoca era già un grande risultato, poi vedremo gli altri dati, e si sono leggermente modificati. Tutto questo, abbiamo subito ovviamente, come sempre capita anche delle critiche, perché ovviamente ci dicevano, ma come Pavese ha svilitto, lo svilite su un social network, non è giusto che la cultura venga messa in un posto dove insomma c'è la massa. In realtà, innanzitutto, noi abbiamo fatto quello che Pavese ha fatto sempre nella sua attività, cioè è stato innovatore. Noi oggi leggiamo la letteratura americana, guardiamo i film che ci arrivano dall'America, perché Pavese ha iniziato a tradurre gli americani, il suo esordio in carriera non è stato nella poesia e nella letteratura, ma la traduzione, Moby Dick, se voi avete la fortuna di leggere entrambe le lingue, vedete che sono due romanzi totalmente differenti e grandissimi entrambi. Pavese ha scritto un'altra cosa, Melville ha scritto un trattato di cetologia, Pavese ha scritto un romanzo meraviglioso, e lo ha tradotto lui per la prima volta. Ne ho parlato, eravamo a New York un anno fa, giusto per presentare il Pavese Festival, e c'era in collegamento radio DJ, perché eravamo alla New York University, insomma, e Linus dice, ma cavoli, ma è Pavese che ha tradotto Melville, è stato lui a tradurre Moby Dick? Sì, ha tradotto lui Moby Dick, ma tanta altra meravigliosa letteratura. Fernanda Pivano, allieva di Pavese, quindi tutto quello che ci è arrivato dall'America, lo dobbiamo a lui. Quindi un grande innovatore, ma anche e soprattutto da un punto di vista linguistico. La sintesi ce l'ha insegnata lui, c'è un bellissimo aneddoto di Roberto Cerati, che attualmente è ancora il grande amico di Pavese, attualmente è ancora il presidente della casa editrice Inaudi, che Pavese ha fondato assieme a Giulio Inaudi, quindi lei Inaudi è figlia di Pavese e di Giulio Inaudi, che ci disse cosa faceva Pavese. Lui fumava molto, fumava la pipa, ed era anche particolarmente fastidioso, quindi arrivava lei Inaudi e appestava un po' tutti di questo suo fumo, di questa cloud, diremmo oggi. E allora facciamogli uno scherzo, prendiamo un cartellone e scriviamo è severamente vietato fumare, e glielo appendiamo sulla porta dell'ufficio, così vediamo quando arriva cosa fa. Pavese arriva, guarda questo cartellone, entra in ufficio, socchiude la porta e non dice niente a nessuno, tutti preoccupatissimi, caspita Pavese si è arrabbiato, si è offeso, di solito sta comunque ai giochi, esce Pavese con un pennarellone e cosa fa, secondo voi? Che fa? È severamente vietato fumare? Toglie il severamente, che è inutile. Siamo noi italiani che abbiamo bisogno di è più severamente, è meno severamente, è troppo severamente, no? Severamente in una cosa vietata è vietata. No? Quindi, ecco, questo è il, questo è Pavese, questa è la sintesi, questo è Twitter, no? Quindi a chi mi diceva, ma come porti il Pavese su Twitter? Lui lo faceva già, il mestiere di vivere sono i suoi tweet, voi andate a leggere il mestiere di vivere, sono frasi brevissime, ma fortissime, piene di sintesi e metafora, con cui lui comunicava dei grandissimi contenuti, Calvino stesso lo dice, nelle lezioni americane, dice il mio sogno è scrivere un'epopea in una frase sola. Fantastico. Quindi abbiamo rispettato anche molto lo scrittore, cercando di fare, di portare avanti questo esperimento. Questi sono alcuni messaggi, alcuni tweet che i nostri, i nostri follower hanno scritto, non essere nato in gaminella voleva dire non essere sbucato da sotto i noccioli o dall'orecchio della nostra capra. Folclore. Appunto, qui prendeva il primo capitolo, vedete l'hashtag, lunafalò slash 01, significava sto twittando il primo capitolo, lo riassumeva e appunto questo era un tweet interessante. Anche questo, torni dove valevi uno scudo d'argento, nel posto scelto per aspettarti, hai visto il mondo, ma ti mancano i noccioli sul belbo. Di nuovo, quindi questo è un grosso legame ancora col territorio, oggi se ne è parlato molto, la letteratura che fa qualcosa comunque per il territorio. Santo Stefano Belbo è stato riscoperto anche dalle persone che hanno giocato, perché di gioco si tratta, alla twitteratura. Ancora. E poi, cosa è successo? È successo che durante questo percorso, un'altra iniziativa, di quelli che oggi sono diventati dei nostri carissimi amici, che si chiamano U10, Michele Aquila, Valeria Di Rosa, Martina Facco, ci hanno chiamati perché hanno detto ma abbiamo visto che state innovando parecchio su questo social network e ci piacerebbe darvi una mano, noi vorremmo stampare i primi tweet book che possono venire fuori da un hashtag, l'hashtag, loro avevano già lavorato così per cercare di aggregare, legarsi ad un evento importante al festival di Sanremo, vedono l'una falò e dicono noi vi stampiamo tutti i tweet, quindi quei 5.000 erotti, 5.000 e 2 tweet che avete visto, sono finiti in rotolini di carta termica, quindi che anche qui sono filologici nei confronti di twitter, perché twitter non ha memoria, dopo 7-10 giorni i tweet più vecchi spariscono, questi o li mettete in frigorifero, dentro delle buste e ci togliete l'aria, altrimenti questi dopo un po' la carta termica, sapete bene quella da scontrino, dopo un po' se ne va. Però è molto interessante, questo rotolino che è stato fatto, loro ce li hanno donati, il 9 settembre del 2012 a Santo Stefano Belbo abbiamo organizzato così la prima lettura corale di quelli che erano i tweet del percorso di riscrittura della luna e il falò, loro hanno portato questi rotolini, è stato molto bello, poi srotolarli, non sono molto fruibili, perché è una sorta di pergamena molto piccola, che una volta che la srotoli tutta, o sei un professionista arrotolatore, o altrimenti hai un po' di difficoltà. Però comunque abbiamo unito queste due, siamo partiti dal libro, siamo passati di qua, siamo arrivati a questo rotolino di carta termica, ma in mezzo abbiamo fatto una cosa molto importante, abbiamo letto, e abbiamo letto in comunità. Poi tireremo i fili alla fine. Questo progetto è stato selezionato, l'Una Falò, il nostro primo, da il bando che fare, su 600 progetti di innovazione culturale, siamo stati selezionati tra i primi 32, quindi insomma, partendo io ed un amico una sera, di fronte ad un bicchiere di buon Moscato d'Asti, di Santo Stefano Belbo, ad arrivare qua, insomma, la cosa è stata abbastanza soddisfacente. Quindi visto che siamo anche un po' matti, non ci siamo accontentati, e abbiamo detto, e adesso perché dobbiamo starcene con le mani in mano? Facciamo un altro percorso. E perché dobbiamo prenderlo facile? Facciamolo difficile. E allora abbiamo scelto i Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese. I Dialoghi con Leucò sono l'opera che Pavese ha considerato sempre essere quella più importante per tutto il suo percorso umano ed artistico, quella su cui lascia l'ultima frase prima di togliersi la vita, che noi a Santo Stefano Belbo abbiamo copia originale, quella famosissima, perdono a tutti, chiedo perdono, va bene, non fate troppi pettegolezzi. Due cose sono molto interessanti di questa frase e esce il filologo che è in me. Un giorno farò una tesi invece di perdono tutti e a tutti chiedo perdono, perdono tutti e a tutti chiedo perdono. Non rubatemi l'idea, attenzione. E l'altra interessante, non fate troppi pettegolezzi. Un po' sì, però. Questo era Pavese. Dialoghi con Leucò. Testo complicatissimo, sono 27 dialoghi. Mito, 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 mito. I temi sono quelli soliti contro cui, con i quali noi ci confrontiamo sempre, amore, morte, tradimenti, viaggi, ulisse, il ritorno, l'identità. Insomma, temi con cui noi ci confrontiamo quotidianamente. 81 giorni di riscrittura. Vi ricordate i tweet di Luna Falò? 5.000, qui andiamo a 44.000, 554 al giorno, 270 partecipanti. Significa che 270 persone ogni giorno, per 81 giorni, mandavano uno o più tweet riassumendo il contenuto di partenza, appunto, i dialoghi con Leucò. Andiamo avanti, ci hanno fatto non solamente tweet, ma anche dei video, ci hanno mandato dei link. Era molto bello anche come veniva approcciato il dialogo. tre giorni per ogni dialogo. Il primo giorno era molto serio, tutti erano molto impostati, cercavano di seguire il tema pavesiano. Il secondo era un po', diciamo, naif, si prendevano un po' di libertà, cominciavano a metterti il link a YouTube, il link all'opera d'arte, il terzo, cioè, veniva fuori un po' di tutto. Però, anche simpaticamente, alcuni ci mandavano i video che abbiamo, se voi andate a vedere, vi obbligo, perché, ripeto, avendo le vostre mail, ormai voi non mi sfuggite più, andando a vedere sul sito twitteratura.it ci sono alcuni di questi contenuti che ci hanno prodotto gli utenti. Questo cosa ci ha fatto pensare? Proprio questo, creiamo un portale dove poter far confluire tutti questi esperimenti, visto che non era più giusto utilizzare il sito istituzionale della Fondazione Pavese, proprio perché la Fondazione Pavese ha bisogno di una parte istituzionale che non si tocca. twitteratura.it è il luogo da cui noi ora lanciamo tutti i nostri progetti di riscrittura. Dopo Pavese abbiamo detto alziamo ancora un po' la sticella e siamo andati sugli iscritti corsari di Pierpaolo Pasolini. Immagino che conosciate l'opera, tutta la serie di articoli che lui ha scritto sul Corriere della Sera e non solo, anche su altre testate, attorno al 74-75. Tutto questo, andiamo di nuovo a vedere i dati, 48 giorni, quindi di meno rispetto agli 81 di Leuco, 300 partecipanti circa, 43.000 tweet e 896 tweet al giorno, una cosa pazzesca. Nonostante di nuovo la difficoltà del tema del contenuto. A questo punto anche noi andiamo in vacanza e allora, visto che ormai dormiamo poche ore a notte, abbiamo detto vabbè d'estate magari facciamo una cosa un po' più semplice. Abbiamo preso un libro, non abbiamo più Paesi Tuoi, di nuovo di Cesare Pavese, ma non l'abbiamo più chiesto ai nostri amici di riscriverlo. Abbiamo semplicemente detto raggruppate sotto questo hashtag Paesi Tuoi quello che sono i vostri luoghi dell'anima. Periodo di vacanza, periodo come vedete dal 5 al 25 agosto. Chi va in vacanza può raccontare le cose che scopre, che vede dicendo questi sono i miei Paesi miei, in un certo senso. chi rimane a casa può scoprire le sue tradizioni, chi lavora nella grande città e torna al paesello può parlare di... Insomma, tutto quello che poteva essere una... riprendere tradizioni, cose che si conoscono nel proprio paese andava a finire sotto quell'hashtag lì. Come vedete 20 giorni, pochissimo, sui 10.000 tweet più o meno, quelli originali sono 6.000, se non sbaglio, con i retweet probabilmente andiamo a finire con la cifra lì, 559 tweet al giorno. Quindi di nuovo anche qui un grande successo. Tutto questo ha fatto sì che noi il 4 agosto del 2013, quindi di quest'anno, riunissimo, radunassimo una parte di questa comunità, quelli che ovviamente hanno potuto venire e che non erano già in vacanza, per incontrare il Paese Festival. E qui di nuovo abbiamo fatto sì che un esperimento su un social network, quindi in una zona che non è irreale, perché attenzione per i nativi digitali quella roba lì non è qualcosa che non esiste, ma esiste assolutamente. E sono venuti tutti a Santo Stefano Belbo, qui abbiamo un'immagine delle langhe, dopo un anno e mezzo di queste persone, un anno più o meno di queste persone ragionavano su Pavese e sulle langhe, era bellissimo far venire fisicamente queste persone nelle langhe per continuare a ragionare dal vivo, vedendo le colline che loro avevano pensato, immaginato o che non avevano conosciuto. Uno dei tweet più belli, due sono stati, alcuni non sapevano neanche chi fosse Pavese, perché noi partiamo, diciamo, ma sì Pavese è uno scrittore internazionale, tutti lo conoscono, no, alcuni non sapevano neanche chi fosse e con questo esperimento l'hanno scoperto, altri che dicevano se fossi andato ad un convegno sui dialoghi con Leuco, mai avrei letto i dialoghi con Leuco, ma soprattutto non l'avrei mai fatto cinque volte, quindi insomma, in un mese ci sono delle persone folli, ritengo, che hanno letto cinque volte i dialoghi con Leuco. Ancora qui alcuni tweet, i miei paesi tuoi sono le Langhe, ad Alba in Corso Langhe i primi palazzoni convivevano con le vecchie case, ecco, questi contenuti alcuni postavano i video con, questo è un video di un amico di Andrea Icardi sulle colline di Pavese, ma non solo Langhe, c'era un po' di tutto dentro, vedete, si parlava di Venezia, si parlava di Torino, Cagliari, il Salento, la Cappella degli Scrovegni a Padova, insomma, chiunque ha messo dentro sotto questo hashtag quello che potevano essere i loro Paesi Tuoi. Vi ricordate i rotolini? I rotolini sono diventati dei tweetbook, veri e propri, dei libri, perché questi ragazzi hanno sviluppato questa applicazione, quindi lo hanno, assieme a noi, il percorso è stato fatto parallelamente, il 6 di settembre i tweetbook realizzati su Paesi Tuoi sono stati portati a Como durante il festival della letteratura che si chiama Parolario e sono stati premiati alcuni di questi e abbiamo premiato quello dei Camuni, del consorzio della Val Camonica, proprio perché all'interno di quell'hashtag loro sono riusciti a raccontare la loro terra. Clabatangelo, che è una nostra ormai amica e grande riscrittrice, ha scritto la storia di Trieste, della sua Trieste, Antonio, che è un nostro follower, si chiama Antonio Prenna, ha parlato del nonno, della storia, quindi il motivo per cui il suo legame è anche il nome. Twitterville, Erika Luna, blu trasparente, ha creato questa ideale città su Twitter, che si sposa un po' con le città invisibili forse di Italo Calvino. Dunque, tutto ciò è diventato territorio, la gente ha rifruito il territorio attraverso un social network, questi i chilometri che ci hanno fatto fare in questi anni i nostri amici che ci hanno invitati un po' dappertutto, queste sono noiose, non ve le faccio vedere, backup, qual è il backup? Il backup è che, vi ricordate la prima slide? La prima slide era la fondazione Cesare Pavese, disintermediata diventa la fondazione Pavese Cesare, cioè cosa significa che oggi, e maffa ride perché io lo so perché ride, un piccolo aneddoto da raccontare, legato a come è nato il mio account, quando io ero un giovane, quindi mille anni fa, andai da maffi e gli dissi guarda, ma crea un account di Pavese, facciamolo, ma come? Prima il cognome, poi il nome, no? Io in realtà l'avevo già creato, non ero capace a cambiare l'account, l'ho ottenuto così, quindi ora vado avanti, se voi trovate su Twitter uno scrittore che ha primo il cognome, probabilmente sono io, quindi adesso sto facendo da Pisa Rustichello, l'ho fatto ieri sera perché è interessante, su Marco Polo. Alla fine di tutti questi percorsi che noi abbiamo, qual è il tema vero? Si può pensare, chiamiamola Twitteratura, come ad un modello, un nuovo modello per divulgare non solo un contenuto letterario, che noi adesso abbiamo visto esclusivamente contenuti letterari, ma dei contenuti più ampli, ma i beni culturali. io direi proprio di sì, anzi, deve essere così. Immaginatevi, non so, una riscrittura della Gioconda, come si fa? Pensiamoci, la facciamo insieme, magari un giorno parliamo del colore, dei cromatismi della Gioconda, tra due giorni parliamo dell'autore, poi parliamo della cornice, poi parliamo della tela. Questo cosa ci fa fare? Ci fa prendere in mano di nuovo quell'opera, guardarla, osservarla, confrontarla, studiarla, disintermediarla, ma soprattutto spezzettarla in piccoli pezzi che ci permettono di avvicinarla, di possederla sempre di più. Questo fa in modo che noi, la cultura, riusciamo a riprenderla in mano. Oggi abbiamo bisogno di nuovi strumenti per fruire la cultura, questo potrebbe essere uno strumento e questa sarà la nostra scommessa. Oggi, con il sito twitteratura.it, noi cerchiamo proprio questo, di capire innanzitutto se questo può essere un nuovo modo di divulgare la cultura e soprattutto se lo possiamo applicare a qualsiasi aspetto della cultura e dei beni culturali. Grazie. Grazie.